Un saluto a tutti gli amici di Telefonino.net, video che sto registrando con il nuovo Samsung Galaxy Alpha. Questo video ha una risoluzione Ultra HD a 30 frame al secondo, con messa a fuoco automatica continua e regolazione continua anche dell'esposizione. Andiamo subito contro luce, veloce anche l'adattamento dell'esposizione. Proviamo lo zoom digitale, fino a un massimo di 4x, lo effettuiamo come di consueto con un pinch sul display, movimenti un po' più rapidi e torniamo verso un dettaglio s'avvicinato. Messa a fuoco rapida. Ripeto, video registrato in risoluzione Ultra HD con il nuovo Samsung Galaxy Alpha.